La sequenza più emozionante, anche da un punto di vista tecnico, perché è un piano sequenza interminabile, non c'è un taglio, non è opera di montaggio, è il finale di otto e mezzo. La scena dello zio Matto, che non era il mio, era lo zio di Federico che era matto. Quello della donina, voglio una donna, voglio una donna. Posso dirmi due? Il film di Fellini, che io sento come anche il volto mio, è La strada. Io non sono mai stato affezionato così tanto a una inquadratura, cioè o a una sequenza, o a un film, perché mi sono dovuto sempre sentire in ogni film come fosse il più bello. Chi non ama l'arte, non ama la vita. È di qui che si va al mare. È quella parte. Ah, benissimo allora. Credo che i vitelloni sia il film che continua a vivermi dentro più, anche se poi sono bellissimi tanti altri suoi film. Ricordo quell'immagine quando Leopoldo Trieste, il capocomico, non so se vi ricordate, il capocomico omosessuale cerca di seduti, di notte di vento, e il capocomico dicevi, andiamo a leggere il terzo atto e lo porta in una specie di inferno, nel buio verso la spiaggia. Quella è un'immagine, è una, non so, a volte le immagini ti rimangono in mente per una risonanza. Ti faccio forse paura. Quello è un momento, comunque credo che i vitelloni sia forse uno dei suoi film più pieni, più straordinari. Per me il pezzo in assoluto più bello non solo di Fellini ma di tutto il cinema è la sequenza in Roma del raccordo lunare. Sono dieci minuti, credo, veramente straordinari, dove veramente si capisce la possibilità di invenzione della mattina del pezzo. Per quello era una sequenza tutta inventata, non era dal vero, non era mezza dal vero con la pioggia, no, era tutta inventata. ed era straordinario, era veramente straordinario, con delle intuizioni poi poetiche in questa materia brutta della pioggia, della pioggia, del fango, del baccano, del traffico. Era veramente unica. E lì non c'era un attore, devo dire. Così, a Bruciapelo, la prima immagine che mi viene in mente è una delle prime del cinema felliniano, e quindi è l'immagine di Alberto Sordi, sceicco bianco, su questa altalena fiorita. Ecco, questa immagine così improbabile e così italiana dell'universo felliniano. Il pranzo di Amarcord con il papà a tavola, che si incannazza con i figlioli che avevano fatto qualcosa, insomma, di birichino, e che c'è questo fantastico attore a capo tavola, che rappresenta il papà di Titta, insomma, in Amarcord, che dice, si attacca così alla tovaglia, fa... E c'è il patacca, che sarebbe Nandino Orfei, che continua a mangiare la minestrina, perché si è tenuto il piatto e a lui gli fa molta rabbia, questo fatto qui del cognato che mangiava a sbafo. Quindi questa era la tavolata di Amarcord a casa di Titta, rido e sto bene. Invece un'altra che mi fa piangere e nello stesso tempo che ho sempre voglia di rivedere è il finale della strada. L'ultima immagine del film, rivolgendosi verso il cielo, fa riconquistare la propria coscienza, gli fa dire, non si sente bene, forse nessuno l'ha mai sentito, ma lì c'è una battuta inventata, proposta, detta all'improvviso, d'Arnold Foix, che ha doppiato quel personaggio, gli fa dire... D'Arnold Foix. Si può entrare? Oh, Asche. Che vuoi? Vatte la pianta e il culo. Quel grande telone blu di intervista su cui sono appesi con delle corde dei pittori di cinecità che stanno dipingendo e si scambiano una battuta che è insieme sublime e volgare, che è insieme celeste, aerea come quel cielo e bassa come può essere basso il linguaggio di un tecnico o anche di un operaio di cinecità, insomma, è che mette insieme appunto tutte le facce del cinema di Fellini, lo studio e l'improvvisazione, l'altezza e la volgarità, il cielo e la terra. Ah, c'è? No, sta a pensare una cosa. Che cosa? Perché non te la vai a piander' il culo? Sul sette di uno dei mille western all'italiana troviamo al lavoro Federico Fellini. Sì, è proprio lui, gira un western, possibile, ma è un western che fa parte dell'episodio del film e non scommettere la testa col diavolo. Guarda, in questo momento mi viene in mente il personaggio di Otto e mezzo, Guido, mi sembra che si chiama, in macchina, su un sottopassaggio e che si sente preso ed esce volando, anche lievitando, diciamo, fuggendo, magari perché ho in mente questa immagine, ma in questo momento io sceglierei questo. La scena che più mi rimane dentro del cinema di Federico Fellini è la scena finale della Voce della Luna. Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. È, secondo me, il grido più forte che Fellini abbia lasciato negli ultimi anni. Credo che sia anche la scena del suo addio, del suo arrivederci, mi piace dire, mai addio. Arrivederci perché con tutti i film che ci ha lasciato, con tutti i ricordi, con tutte le immagini che ha creato, ecco, mi piace sempre pensare che sia da qualche parte che combina qualcosa. Forse è Amarcord. Forse è Amarcord. Un arabo che scende in un grande hotel e porta tutte le sue otalische con sé, ed è una specie di balletto fantastico. La prima che mi viene in mente dico la processione delle notti di Cabiria. Grazie, madonna mia! Grazie, madonna mia! Mi sembra uno dei pezzi di cinema più straordinari, non solo dell'opera felliniana, ma in assoluto. Ecco, dove c'è tutto Fellini, a mio avviso. Ecco, tutto Fellini con tutta la ricchezza della sua straordinaria ambiguità, di quella grande e positiva caratteristica del suo cinema, che è questa ambiguità semantico-espressiva, e con la straordinaria articolazione di tipologie psicologiche, sociologiche, umane, coronato da questo pezzo straordinario che è la reazione di Giulietta Masina, che è di Cabiria appunto, che è dove si capisce che in qualche misura si era convinta che questo atto rituale, ecco, potesse cambiare le cose, cambiare la vita, cioè cambiare il mondo. Non temo cambiate, non temo cambiate, nessuna va! Pronti? Fa vedere Giulietta nel giro, un momentino. Va bene Gianni? Andiamo, pronti, fermi. Pronti. Motore. Vai Mario. Sorella, leva al sciacchi. Stia ferma così. Valentina, un pochino, no, troppo, meno, 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 no, un pochino più, così. Motore? Aspetta, vieni, compatti un po' troppo presto, lo dico io. Sono Agnacchino. Un po' più la tua sinistra. Quaranta, prima. Silenzio, fermi. Vai Silvana. Genius. Giulietta. Sospiro. Stop. Se devo scegliere, insomma, un'immagine che più risponde così alla mia sensibilità, alle mie esperienze, insomma, sono delle espressioni che ha Marcello nella dolce vita, dei momenti, soprattutto, so, quando parla con Alenquinì, quando parla con Steiner, quando va in giro e guarda, ecco. L'occhio di Marcello che guarda il mondo nella dolce vita, questo per me è bellissimo. Forse perché ero sul set e l'ho vista girare, direi che una delle sequenze che mi stanno proprio nel cuore è quella finale della nave va, in cui dopo l'affondamento, quando ormai la nave è stata invasa dalle acque, c'è un movimento di macchina indietro e poi la macchina da presa si gira e vede un'altra macchina da presa che sta riprendendo la stessa sequenza. Ed è un momento di, se vogliamo, anche scontato di cinema nel cinema, ma di una tale poesia, anche perché lì torna, in quel momento, poi era previsto e l'abbiamo realizzato, torna il grande tema della Forza del Destino suonato dal pianoforte come se fosse una pianola. E quindi c'è questo omaggio un po' a tutto il potere e alla poesia del cinema, che è realizzato, secondo me, con una effusione, con una partecipazione straordinaria. È arrivato Zampalò! Della strada sono, anche quando la rivedo, sono sempre molto colpito perché mi ci ritrovo in pieno, anche perché, come ho detto, il soggetto l'ho fatto quasi tutto io, la sceneggiatura l'ho fatta tutta io, da solo, praticamente da solo, quindi lo sento proprio come mio. È arrivato Zampalò! Bellissima la sequenza in cui Zampalò le fa la scuola, le insegna come deve sbattere il tamburo, ha con le frustate nelle gambe, quella è una sequenza che resta proprio della memoria. Zampalò è arrivato! Così devi dire! È arrivato Zampalò! Non so se l'avete notato, c'è una cena quando, assieme allo zio Amato, vanno in campagna, in cui c'è una specie di lettino nel quale c'è un bambino piccolo, e il figlio del contadino che ha 5-6 anni, più di un mattone, vuole ammazzare il fratello. Ma sto capirmi a te, delinquente! Perché c'è in effetti, nell'ambito familiare, questa antinomia? 8 e mezzo. Adesso ho la testa piena di confusione. Io nel frattempo ero caduto in nevrosi, e quindi siccome 8 e mezzo è il film di una nevrosi, io mi commuovevo fino alle lacrime perché a un certo punto mi riconoscevo in quella situazione. Chissà perché le cose sono andate così. A che punto avrò sbagliato a strada? Non ho proprio niente da dire, ma voglio dirlo lo stesso. di voler fare, non voler fare, esserci e non esserci, chissà cosa succederà, ma perché non faccio il film del non fatto, così di seguito. E quindi io, proprio a un certo punto, di tutto 8 e mezzo. Quello che più mi ha impressionato di tutto, in tutti i film di Federico, quando Marcello riesce a fare Federico Fellini senza somigliarsi, questo, cioè per me resta un mistero come è riuscito a farlo diventare tale. So che per tre mesi sarebbe venuto in casa, prima di fare dolce vita, per farlo di Magri, per insegnargli i gesti e tutto quanto, però almeno mi basta questo, perché il risultato è talmente grande che sembra assurdo che uno possa riuscire a essere un personaggio senza somigliarci, capito? Signore? Signore, il bicchiere! Di notte e mezzo, sì, quando lui stava in questa casa di cura, no? Sono qua! Tutta la scena delle terme a Chianciano, ma voglio raccontare invece una sequenza che io ho amato tanto perché non si è mai fatta. Facevo l'assistente a Roma, c'era un episodio che doveva essere girato che era il cimitero, il verano, e questo episodio si rimandava, ma a un certo punto fu pronto tutto, il set era pronto, le comparse erano pronte. La prassi era che io la mattina presto, prima di andare a girare, prendevo il caffè con Fellini nel suo studio. E poi avrei raccontato alla produzione il succo di questa conversazione per vedere se ci fossero cambiamenti di programma o aggiustamenti di piano di lavorazione. E quella mattina Fellini stava giocando con le monete, quel gioco che faceva sempre, che doveva determinare addirittura piccole cose nel destino della giornata, e quella volta non fu tanto piccola perché dopo essere stato in silenzio per dieci minuti, mi disse Paolo, noi oggi il cimitero, il verano non lo giriamo più, non lo giriamo né oggi né mai, dirlo alla produzione, andò via proprio dal set, passando da un'altra volta. E mi ricordo la faccia del direttore di produzione quando io dovessi dargli questo annuncio che tutta questa roba era da buttare, comparse, scenografie, tutto. e mi fece anche lì una grandissima impressione di un potere assoluto, di una divinità. a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una corsa automobilistica alle mille miglia. Ecco, e nessuno ha mai creduto che fosse stato girato qui. Tutti hanno pensato che erano Rimini. Per cui immediatamente la prima che mi salta in mente è quella lì. Sono tantissime le immagini. Ma forse lo sguardo di Cabiria quando non capisce perché questo uomo che lei ha amato la vuole uccidere. E il suo sguardo incrocia lo sguardo dello spettatore con un senso di sgomento e poi al tempo stesso la ripresa della luce della vita nei suoi occhi nel finale. Le dissolvenze felliniane e cioè i finali generalmente, la scena finale dei suoi film che se ci si pensa bene poi non è ripetuta però concettualmente è sempre quella. E cioè sta a significare che i personaggi da una scena finale che generalmente è sempre opulenta di personaggi. Piano piano uno a uno con dei voci escono dalla scena che è come dire che fuoriescono da una pellicola e finisce quasi sempre con una spiaggia, con un mare, con una voce fuoricampo che è il saluto, il vero saluto che va a sostituire la parola fine che generalmente si usa nei film che Federico non ha mai voluto usare perché le sue storie sono storie infinite, sono storie che continuano, non c'è un inizio e non c'è una fine. Musica maestro? Musica maestro? Questo qui è un film un po' particolare, non c'ho mica capito bene tanto neanche io. Le stavo dicendo appunto prima che è finito quasi all'improvviso, cioè da un momento all'altro, è un film che non mi è costata nessuna fatica farlo, che si è svolto così quasi all'insaputa di me e oggi è finito. Ma sì, se penso a Fellini la scena che mi viene immediatamente agli occhi è il finale di otto e mezzo. Il girotondo di otto e mezzo. Il finale di otto e mezzo. Musica maestro? Un momentino, un momentino, te lo do io i segnali. Musica maestro? 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 popolo di Fellini che scende dalla rampa di lancio di un razzo che non partirà mai e che sfila sulle note della marcetta di Nino Rota interpretando una riconciliazione totale in quell'anima dell'uomo che vive una sua contraddizione eterna. Io quando vedo quelle immagini e sento quella musica, anche se appunto non ho avuto niente a che fare con quel film, però quel bianco e nero e poi proprio conoscendolo sono sicura che c'era molto di lui in quella scena. Il finale di otto e mezzo doveva essere il trailer del film, girato in una serata che o veniva o non veniva perché era girata con luce a cavallo, quindi doveva venire per forza e improvvisamente il finale è arrivato. Il bimbo, la creaturina, l'innocenza col suo flauto che sembra in qualche modo festeggiare il ritorno di tutti in questo girotondo che rimette insieme tutto ciò che deve stare insieme in nome per l'appunto dell'armonia. Come autore, come autore e anche come spettatore, qual è l'immagine di Amarcord che ti piace di più? Sono particolarmente affezionato nella sequenza della nebbia a quel pezzettino dove si vede quel personaggio, il nonno, il vecchio che esce fuori di casa con una certa baldanza e fa 4-5 passi nella nebbia senza vedere niente, senza capire niente e poi ritorna indietro e rientra in casa per morire. Ecco, mi disse quell'immagine lì mi commuove ancora, mi commuove nel senso così che mi pare particolarmente realizzata, almeno a me. Ecco, vorrei augurare a tutti noi di uscire di casa e di fare dei passi, ma non nella nebbia e soprattutto di tornare indietro per morire avendo percepito qualcosa, non soltanto una parete così immobile, ferma, senza profondità e senza trasparenza. Che ne dici di sto finalino? Ti va? Sì, sì, sì. Grazie a tutti.